Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio, e come baptizzo, contro il malocchio. Con il peperoncino e un po' di insaleta, mi protegge la madonna dell'ingoroneta. Con l'olio, il sale e l'aceto, mi protegge la madonna dello sterpeto. Corno di bue, latte scrameto, proteggi questa casa dall'innomineto. Quanto male, quanto male, presto! Che è successo, un'altra disgrazia? E' colpa tua papà, è tutta colpa tua! E che ho fatto io? Calluccio malocchio lasciata, dice che in questa casa non si respira l'aria dell'altura ma quella della valute. E' te che non sopportavo papà, consumista! Io sono il consumista, è l'un disgraziato consumista che mi ha consumato 180 dedifrici, 108 saponette, un guido alle mezzi pasta, sei fottuto. Questa è la iela che sta in questa... Oh, un momento, la iela, se l'hippoporto non ti ha lasciato vuol dire che non è tanto iela, vuol dire che è fortuna. Ma lo sai che è sensibile? Papà, ma non puoi essere così insensibile? No, 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 calma bambina mia, è successo anche a Marina de Santa Cruz, ma meno tu non hai il suo bambino in grembo, eh? Su, via! Non lo so veramente, mamma, ancora questa... Come sarebbe a dire che si è ginta del babbacione? Mamma mia, sono andata con chi la bianca? Non ne vuole più sapere, bambina mia, come sono sfortunata, che la femmina va fottuta e bianca, che bianca è bianca, cosa devo fare? Fai l'esame finestra, la prova è della molla e vedete un po' chi è più bianco. La svantura si è abbattuta su questa casa come nella centoventottesima puntata di Ferdoncrest. Ah, ci sono voluti centoventotto puntati di crosta e crosta e come crosta si chiama per capire la gianca di questa crosta. Adonare, il re dell'occulto viene al casaletto 27, cancelletto di sinistra, si riceve solo per appuntamento. Fissami. Mi stai fissando? Sto cercando, perché lei c'è un po' di strappismo, un sacco. Ma devo stare molto così, professore, perché c'è un'artrosi cervicale che mi tira il nervo. Se la maledizione vuoi sortire, qualcosa devi fatire. Comunque abbassa. Grazie. Una maledizione ti circonda a 360 gradi. Se la maledizione è karmica, non ci sono speranze. Se poi la maledizione non è karmica, allora vedremo cosa si può fare. E come facciamo noi a stabilire se c'è questo karmico o no? Svuota la mente da ogni pensiero. Non ho afferrato, scusa. Svuota la mente da ogni pensiero. È afferrato adesso. Ma non si arrabbi, io non l'avevo sentito, scusa. Svuota la mente da ogni pensiero. Sì. Svuota la mente da ogni pensiero. Sì, te la senti vuota adesso? È vuota, è vuota, uvino, io ti adoro. Alto mare sì. Vuoi tu distruggerlo, neutralizzarlo, ricacciarlo nelle terebre? Rispondi sì. È di origine palese? No, è di origine del nord, fa l'ingegnere. Ma che stai dicendo? Ha baffetto, pizzetto, occhiali neri? No, un tipo tranquillo, sono i dendoli. Allora è dell'altra categoria, quello occulto. Ehi. La iella che emanano risiede in un pelo irto e setoso che cresce sul loro corpo. Cerco e strappalo! E la luce tornerà a splendere su di te. Sì, lo so, professore, ma come faccio a trovare questo pelo irto e setoso? Non è facile. Su, cazzo le due. Vuoi? Adesso è chiaro. Vuoi andare? Un momento. O scendo, non pagare la mia segretaria, esorda una milla a me. Il mio onorario è 200.000 lire. Sono poco, sei contento? No, no, sono contentissimo. E adesso, prima di andare via, lasciamoci col saluto della fratellanza universale. Sì, però non è che proprio lei mi ha fatto un prezzo da fratellanza universale. Anzio, 200.000. Arrivederci. Stai.